Salve a tutti siamo qui con un nuovo video in questo video che continuiamo a stare sulla mod della vita reale nello scorso episodio ragazzi beh abbiamo visto che cosa è successo con Anna Anna è venuta qui a beh Paleto Bay dalla sua famiglia e abbiamo provato a cercare di riconnetterci con lei Non è stato facile, non è facile, non sarà facile ragazzi siamo qua da un po' c'è un bellissimo motel qua in giro Il Bayview Lodge, una roba del genere, ci siamo già alloggiati, vi ricordate l'altra volta quando dovevamo purtroppo alloggiare qui Perché naturalmente che cosa è successo? Che semplicemente avevo tradito Anna E questo è anche uno dei motivi per il quale adesso è venuta qua anche se io effettivamente ragazzi sarei io la parte lesa Vi ricordate se avete visto gli episodi della stagione praticamente vi siete accorti che lei è vero Cioè noi l'abbiamo tradita anni fa che poi è stato tutto perdonato almeno secondo lei ma non sembra proprio È vero che effettivamente poi le ho demolito la casa dei genitori, quella in cui è cresciuta Però diciamo che era già da demolire doveva essere già fatto io solamente alla fin fine dato l'ok Però è anche vero ragazzi che lei ha speso tutti i nostri soldi e li ha buttati tutti per vestiti, gioielli E altre cavolo di cose che non servono a nessuno e che sono solo uno spreco di soldi, di denaro Insomma diciamo che è roba che compra qualcuno che non sa che cosa significa fare soldi Che non conosce i soldi fino in fondo Insomma qualcuno che non ha mai lavorato in vita sua Ora Anna non è così, Anna ha lavorato in vita sua ma il problema è che insomma Capitemi, cioè vive un po' negli allori Grazie mille signorina, grazie mille di tutto, le ho lasciato qua la mancia, i soldi Grazie mille del caffè, è stata molto gentile No prego, è un piacere, è veramente un piacere Grazie, arrivederci, alla prossima, alla prossima Ragazzi usciamo da qua direi Eccoci qui, andiamo a prenderci almeno la Tesla Aspettate che butto nel cestino il caffè Eccoci qua, buttiamolo nel cestino Perfetto, ottimo, bene Allora andiamo un attimino solamente a vedere se Anna per caso ci dà una possibilità oggi Perché ci stiamo provando tutti i giorni da quando siamo qui insomma Tutti i giorni da quando siamo arrivati in questo Lo vedete? Cioè Bayview Lodge Cioè non è che sia molto accogliente ma non è neanche così male Alla fin fine poteva andarmi peggio Se devo essere totalmente onesto con voi Bene, comunque eccoci qua con la Tesla ragazzi Saliamo a bordo Dobbiamo cercare un piano per poterci Come si dice, per poter fare pace con Anna alla fin fine Tutto qua Cioè ragazzi capitemi Accendiamo un attimo la Tesla Io non saprei cosa fare sinceramente Perché lei non vuole sapere ragioni Mettiamoci la cintura Eccoci, io metterei anche poi la freccia a destra Ma vabbè, lasciamo stare dato che adesso in questo momento Devo pensare ragazzi a cosa, cosa fare Effettivamente è un po' difficile come situazione Perché io mi trovo qua in mezzo a due fuochi Tra un lato, da un lato c'è Anna Che magari vorrebbe anche tornare con me Però il problema è che è un po' affranta Dall'altra parte ci sono, c'è suo zio e sua mamma E sua, scusatemi, suo zio e sua zia E i genitori e le cose varie Che si mettono in mezzo anch'essi Ed è un po' un problema Io ho già provato con le rose Non bastano perché Anna effettivamente non è tornata con noi Nonostante io le abbia consegnato le rose tante volte Dice che ormai è scontato Perché è quello che faccio sempre Quindi non è quello che voglio fare adesso Quindi che cosa possiamo fare per lei ragazzi Non ne ho idea Di tutto e di più Dovrei forse regalarle qualcosa di speciale Forse questo Dovrei farle un regalo speciale Solo che cosa vuole lei Soldi Alla fine è più una battuta Ma lasciatemela questa battuta ragazzi Dopo aver speso tutto quello che ha speso Incavolate e shopping Cioè mi sembra un po' assurda come cosa Giusto? Sapete che non saprei proprio Sentite Mi è venuta un'idea Non serve che Anna abbia niente Ok? Niente di quello che Non ha Nulla di quello che le serve Alla fine Quello che è l'importante sono io Giusto? L'importante sono io È inutile che le diamo Beni materiali Ma anche rose valgono come beni materiali Alla fine quello che vuole Anna Per tornare con noi È semplicemente onestà E probabilmente Parlare Riappacificarci insieme Cercare il modo di Capitemi insomma Penso che non servano rose Fiori O cioccolatini Secondo me alla fine serve Che lei capisca Che con noi c'è di nuovo un futuro O magari Che lei abbia capito Che non c'è un futuro Non ci sarà più un futuro Non so Avrà fatto anche lei Le sue scelte Giusto? Chi sono io poi ragazzi? Nessuno Quindi direi Andiamo a casa sua Facciamo un'inversione qua Tanto Questi sono posti tranquilli Non è che Eccoci qua Andiamo a casa sua ragazzi È l'unica cosa che possiamo fare Parliamole Anna Cosa vuoi? Eh Sono venuto Perché Sinceramente Mi aspettavo che venissi Venissi tu da me E perché dovrei venire io da te? Perché Sei tu Che hai speso I miei soldi Sì ma Io l'ho fatto come ripicca Per un motivo Sei tu che ti sei sempre Comportato male Nei miei confronti Non è vero Non mi sono mai comportato male Tranne una volta E ti ho già chiesto scusa Ci siamo già passati Più di una volta Dio Eh Hai ricevuto le rose? Può darsi A me fa piacere Quello che ti è successo Anna Però Però Ti chiedo Che se mi vuoi bene Veramente Dammi un'altra possibilità Oppure Dimmi che non mi vuoi Più Mai più Per sempre Onestamente Non lo so Cosa voglio fare Ti serve ancora tempo Per decidere È questo che mi vuoi dire Diamine Onestamente Sì Mi sono stufata I tuoi giochetti Ma che giochetti Che giochetti Non ho mai giocato I figli I figli adesso Cosa fanno Scusa Se ci separiamo I nostri figli Che fine fanno Beh Allora Uno è grande abbastanza Che può badare a se stesso Sì L'altro è un adolescente Scappestrata E il più piccolo Rimarrà con me Mia madre Mi sembra che Più che pensarci Tu sia già decisa Sì Volevo semplicemente Pensare a come dirtelo Ecco Ma Vedo che Vuoi proprio Sentirtelo dire È finita Non È finita Basta Sono stufa Di tutte queste situazioni Ho voglia di Iniziare una nuova vita Adesso ti sei mutolito Non hai più niente da dire Da poco Mi ero Le scatole Per Un'eternità e mezza Cosa vuoi che dica Anna Noi ci siamo sposati Cosa vuoi che dica Più di provare A rimediare le cose Non Non so cosa potrei dire Vabbè Rivediamo a metà Tutto quanto Se ti va bene Giulia può rimanere con te Io piccolo Kobe Lo prendo io Ovviamente puoi vederlo Quando vuoi Però Non voglio più sapere Adesso non stufa Onestamente Te l'ho già detto Voglio riniziare Sono loro che ti hanno messo in testa Queste cose Ma No 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 Sei stato tu Cosa Cioè tutto questo perché io ti ho Ti ho demolito casa Dei tuoi genitori O Hai demolito casa dei miei genitori Mi hai tradito Sei sempre impegnato soltanto a pensare a te stesso E devo affrontare ogni volta la stampa E tutte queste cose qui Le ragazzine che ti vengono sotto casa Cioè Basta 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 Ok Ho capito Ho capito Se c'è bisogno Vabbè Facciamo un divorzio tranquillo con gli avvocati Perché non ho più voglia di rotture di scatole Sì Va bene Se sei disposto a dividere tutto a metà Eh Tutto Ormai il tutto Cosa vuoi che sia Non c'è rimasto più molto con te Che Vabbè Va bene Continua 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 ad accusarmi Va bene Basta Vai via così Senza neanche salutare Ciao Anna Senza neanche salutare così Ti ho detto ciao Anna Ti ho detto ciao Anna Guarda Ho fatto bene Ho fatto solo che bene Ti ho detto ciao Anna Ho fatto solo che bene a prendere questa decisione Basta Ho fatto solo che bene a prendere questa decisione Ho fatto solo che bene a prendere questa decisione Ho fatto solo che bene a prendere questa decisione Ho fatto solo che bene a prendere questa decisione Ho fatto solo che bene a prendere questa decisione Ho fatto solo che bene a prendere questa decisione Ho fatto solo che bene a prendere questa decisione Ho fatto solo che bene a prendere questa decisione Ho fatto solo che bene a prendere questa decisione Ho fatto solo che bene a prendere questa decisione Ho fatto solo che bene a prendere questa decisione Ho fatto solo che bene a prendere questa decisione Ho fatto solo che bene a prendere questa decisione Ho fatto solo che bene a prendere questa decisione Ho fatto solo che bene a prendere questa decisione Ho fatto solo che bene a prendere questa decisione Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.